Ciao a tutti, io sono Franz e oggi siamo su Clash of Clans Ragazzi, siamo in guerra Vi faccio vedere, io devo attaccare il mio corrispettivo E sono pronto Peccato non avere il re barbaro Però va bene lo stesso Ragazzi, questo attacco io lo dedico al cocapocello Che mi ha chiesto un attacco con i draghi E visto che, come si dice Sono in guerra e i draghi li dovevo preparare Li dedico questo attacco Comunque io sono pronto Partirei subito di qua Uno, due e tre Andiamo subito con una bella cura qua Una cura qua Una bella furia qua E una furia qua Qua io li piazzerei la mia bella regina E qua vai con le streghe a tutta forza Dove cazzo andate? Dove cazzo andate? Draghi E che cazzo Scusate ragazzi Ma questo qua lo devo proprio dire Che cazzo di attacco di merda Non ci posso credere Ho fatto veramente schifo Troppo forte, troppo forte Ho fatto un attacco di merda Mi vergogno di me stesso Guardate, non ho parole Mi sono demoralizzato Non ho mai fatto così tanto schifo In un attacco Eh lo so Dirk Questa è stata veramente una sfiga di cacca Comunque salutiamo Bell'android Che schifo d'attacco Di attacco Scusatemi Comunque ragazzi Avevo cercato di registrare prima un attacco Per proprio per Dirk Eccolo qua Viva la patata Meno male che almeno mi fa ridere Ve lo faccio vedere Registro attacchi E avevo fatto l'attacco per lui Eccolo qua Spero sempre che la registrazione Vada sempre a buon fine Io sono partito così Questo era l'attacco per Dirk Per il nuovo cocapo Dirk Guardate qui le regine Che quanti ne mettono fuori E' stato veramente un massacro Le regine hanno fatto una strage assoluta Ormai sappiamo come va a finire questo attacco Questo è stato veramente un bel attacco La prossima volta in guerra La prossima volta in guerra Attaccherò solo con le streghe Non le regine Le streghe Guardate continuano Proprio A fare scheletrine a manetta Cioè questo è stato veramente un bel attacco Lo mando un pelino avanti Lo velocizzo un attimo Guardate ragazzi Guardate Ancora continuano le streghe E qui hanno attaccato un municipio C'erano scheletrini Streghe Che continuavano ad attaccarlo Questo è stato veramente un bel attacco Vi hanno fatto due stelle addirittura Ragazzi io spero che comunque il video vi sia piaciuto Anche se non è andato proprio a buon fine Vi faccio vedere l'unica cosa positiva Guardatele i miei arcieri Finalmente si sono maxati Dopo 15 giorni ad aspettarli Sono pronti Ragazzi che dirvi Io spero che il video vi sia piaciuto Se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi Ricordate di commentare Lasciate un bel pollice in su Anche un pollice in giù Mi va bene L'importante è che commentate Mi fate sapere Per adesso Dal vostro Franz è tutto Bell'Android Grazie a tutti